Pizze, baguette, cariole, medicina, miele. Con questi nomi in codice, i trafficanti arrestati dalla polizia di stato di Bustarsizio indicavano le sostanze stupefacenti. Una filiera smantellata con un anno di indagini partendo da due fratelli riders della droga. Nella mattinata del 23 gennaio, con l'ausilio del reparto prevenzione crimine di Milano, gli agenti del commissariato bustese hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del tribunale locale nei confronti di 17 soggetti, nove dei quali ristretti in carcere e otto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, tutti indagati per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.